Oggi siamo qui per assistere a un'epica battaglia tra una fotocamera professionale e uno smartphone. Proprio così, amici, impari come può sembrare, oggi siamo proprio qui a fare questo confronto e mi sono deciso a fare questo video per un motivo in particolare. Un video che avevo fatto un bel po' di tempo fa e che non aveva avuto particolare successo, è stato inondato di visualizzazioni proprio in questi giorni, l'algoritmo e le sue piccole follie, e si dà il caso che in quel video in cui io da un lato esponevo dei fatti ma dall'altro con un misto di sarcasmo e tristezza andavo a elencare i motivi per cui la fotografia potrebbe morire perché la gente non si rende conto delle differenze tra smartphone e macchina fotografica. Ora qualcuno addirittura mi ha accusato di buttare fango sui fotografi in favore di chi usa lo smartphone da casa. Ragazzi ovviamente non è quello il mio scopo, io non sono qui a dire che i fotografi sono inutili, ma vi pare sarei io il primo a darmi dell'inutile quindi non è assolutamente quello il mio scopo. Però questi feedback mi fanno comodo in realtà perché mi hanno fatto capire che era arrivato il momento di farvi vedere, di farvi toccare con mano che cosa si può fare con uno smartphone e che cosa si può fare con una macchina fotografica ed è proprio quello che faremo nel video di oggi. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare, sono un fotografo e mi occupo di fotografia da diversi anni e fino a quando riuscirò a portare avanti il mio lavoro non ho nessuna intenzione di smettere quindi ovviamente io sono qui a sostenere che la macchina fotografica è meglio dello smartphone. Anche se di recente mi è capitato di dissuadere alcune persone dall'acquistarne una e vi voglio spiegare perché. Nel momento in cui una persona mi dice voglio una macchina fotografica, io chiedo sempre oh che bello, perché? È perché voglio fare delle foto più belle. Fermati un momento. Non è comprando una macchina fotografica che farai delle foto più belle. Ci sono troppe cose che concorrono alla cattura di una buona immagine e la macchina fotografica è solamente una componente. Per cui domandati se sei disposto a portarti dietro strumentazione pesante e costosa per catturare quell'immagine. Devo dire che il 70% delle volte la persona si guarda ai piedi e poi con la voce rotta mi dice hai ragione, non ci avevo pensato, resto con lo smartphone. Quindi spesso e volentieri io sconsiglio di utilizzare la macchina fotografica perché mi rendo conto, ho esperienza a riguardo, mi rendo conto che la maggior parte delle persone prendono la macchina fotografica, la usano due volte, non imparano a utilizzarla, la lasciano sullo scaffare a prendere polvere e continuano a fare le foto con lo smartphone. A quelle persone io consiglio di continuare a usare lo smartphone. A chi invece è curioso e ha voglia di imparare consiglio innanzitutto di iscriversi al mio canale e di seguire questi contenuti perché di tanto in tanto ci sono dei tutorial da cui si può imparare qualcosa di utile. In secondo luogo consiglio di continuare a studiare, a imparare cose non solo da me ma in generale e di continuare a portare avanti questa meravigliosa tradizione. Dovrei fondare un ordine dei templari della fotografia ormai perché è una cosa in via di estinzione visto che ormai scattano tutti solo con lo smartphone. Però oggi vi faccio vedere un ambito particolare e fatemi sapere nei commenti se questo tipo di contenuto vi interessa. Vi farò vedere un ambito in particolare dove la macchina fotografica ha chiaramente un grosso vantaggio. Se questo tipo di contenuti vi interessa farò anche delle puntate successive in cui andremo a vedere altri casi. Oggi ci occupiamo in particolare di fotografia di interni ed è puramente casuale che io sia partito da fotografia di interni perché dovete sapere che oggi, proprio nel giorno in cui registro questo video, che non è il giorno in cui esce ovviamente, però oggi per il me del passato che state guardando c'è stato un bellissimo shooting in una location molto molto carina che era uno dei tanti negozi di arredamento che spesso e volentieri visito per realizzare foto, video, drone e quant'altro. E ho quindi colto l'occasione, visto che ero proprio in loco, ho colto l'occasione per dire ok, io adesso faccio la foto con la mia macchina fotografica, sto utilizzando Canon EOS R con il 1435, tutta roba di cui ho già parlato, che ho già recensito. Vi lascio link da tutte le parti. Andatevi a cercare i video vecchi sul mio canale, le recensioni della strumentazione, se vi interessa sapere con cosa scatto abitualmente. Andatevi a vedere il mio video sulla fotografia di interni se vi interessa sapere esattamente come ho scattato queste foto perché ho già spiegato tutto. Quello che però vi porto di nuovo quest'oggi sul canale è il fatto che io oggi ho scattato le foto anche col mio iPhone. Quindi proprio esattamente nella stessa posizione, proprio nello stesso momento in cui scattavo la fotografia con la fotocamera, un attimo dopo per la verità, mi mettevo lì anche col cellulare e scattavo la stessa identica foto anche col cellulare. Questo per portarvi degli esempi di che cosa riusciamo a ottenere come risultato finale col cellulare e di che cosa riusciamo a ottenere come risultato finale con la macchina fotografica. Doverosa premessa, anche qui, molti di voi staranno pensando eh ma lo smartphone è una schifezza, molti di voi staranno pensando eh ma la macchina fotografica è da Jurassici. Ragazzi io non sto da una parte o dall'altra, non me ne frega niente di fare il tifoso. Noi qui stiamo esaminando un fenomeno, non ce ne frega niente di tifare per una squadra piuttosto che dell'altra. Io vado semplicemente a farvi vedere i risultati di quello che è stato fatto oggi con una doverosa precisazione. È evidente che le foto che vi farò vedere che sono state scattate col cellulare sono state scattate, clic, fine, sono pronte così. Mentre le foto fatte con la macchina fotografica io vi dico che ci ho messo tre ore di post produzione per realizzare gli scatti che vi faccio vedere oggi. Giusto per darvi qualche numero, sono 22 scatti. Io oggi ho realizzato in questo negozio di arredamento 22 scatti. Questo significa che dobbiamo fare una moltiplicazione e moltiplicare per tre perché ho fatto il bracketing per fare l'HDR. Quindi ho fatto 22 composizioni e tre scatti per ogni composizione che poi ho miscelato con Merge to HDR di Photoshop per ottenere un'immagine più ricca. Per cui ci ho messo gran parte della mattina a fare le foto ci ho messo gran parte del pomeriggio a fare la post produzione. Per cui capite bene che le fotografie fatte col telefono sono state fatte in un secondo. Le fotografie con la macchina fotografica hanno richiesto tanto tempo, tanta cura, un po' di amore perché comunque io ce lo metto quando faccio i miei lavori. Non è la stessa cosa ovviamente. Quindi andiamo a vedere due prodotti di cui uno è istantaneo e a parer mio è un po' meno bello e uno invece che è pienamente professionale, a mio parere molto ben riuscito però ha richiesto praticamente la giornata intera di lavoro. Quindi dobbiamo anche calcolare questa cosa perché quando io vado a spiegarvi queste cose voi dovete tenere conto e se avete visto tutti i miei video cominciate a capirla questa cosa. Se non la sapete ancora andatevi a rivedere tutti i miei video così capite lo schema più grande che vi sto mostrando. Nel momento in cui io vi faccio vedere delle fotografie fatte con la macchina fotografica e vi dico, guardate, fatte con la macchina fotografica sono meglio è evidente che c'è anche dietro del lavoro non è la macchina fotografica che ha fatto le foto migliori è il fotografo che ha fatto tutta una serie di cose per portarsi a casa delle immagini migliori cosa che col cellulare non è stata fatta. E anche qui qualcuno potrebbe obiettare è però se avessi preso delle accortezze anche col cellulare se avessi usato delle app esterne per fare l'esposizione manuale se avessi usato un treppiede per smartphone magari si avvicinerebbero di più. Tutto vero, ma l'utente smartphone non le fa queste cose perché mentre un utente fotografico un utente con una macchina fotografica usa il treppiede, usa le luci, usa i filtri robe giurassiche come qualcuno mi ha giustamente detto nei commenti l'utente smartphone invece non vuole fare niente di tutto questo non ne vuole sapere, non gliene frega niente l'utente smartphone vuole fare click e quella deve essere la foto già pronta senza dover nemmeno fare la post e quindi oggi questo vi faccio vedere vi faccio vedere click è pronta subito con lo smartphone oppure tre click, tre foto diverse e poi tanta post-produzione che non è post-produzione per rendere la scena diversa da com'era realmente ma proprio il contrario è post-produzione per catturare una scena più ricca di dettagli e riportarla esattamente come io la vedevo coi miei occhi a un esame disattento le immagini possono sembrare molto molto simili perché comunque è la stessa identica scena i colori erano quelli, le luci erano quelle quando andiamo a ingrandire vediamo la differenza nel caso dovessimo stamparla vediamo la differenza si vede la differenza magari in certi piccoli dettagli come per esempio il fatto che le foto fatte con macchina fotografica ho raddrizzato ulteriormente le linee verticali che magari non erano perfettamente allineate in camera adesso voi direte questo si poteva fare anche su smartphone si poteva catturarla con un pochettino più dritta in smartphone questo forse sì però lo smartphone distorce di più e lo smartphone produce un'immagine che è molto più difficile da lavorare anzi non difficile non è una questione di difficoltà non è che sono pigro è impossibile da post-produire perché se io la post-produco e posso farlo i mezzi e la conoscenza per farlo ce li ho però il punto è che l'immagine scatturata con lo smartphone quando la post-produci si rovina molto più facilmente rispetto a quella prodotta con la macchina fotografica per cui se quando io lavoro con la macchina fotografica posso fare delle correzioni, dei miglioramenti con la foto fatta su smartphone posso farne molti di meno e quindi dovrò per la maggior parte tenerla così com'è così com'è stata scattata, distorsione inclusa quindi vado a farvi vedere questo confronto tenete conto di queste cose tenete conto che c'è tanto lavoro dietro non è che viene pronta subito per fortuna, se no sarei disoccupato invece quando la fai con smartphone viene proprio pronta subito dopo ci puoi mettere un filtro di Instagram ci puoi mettere qualcosina però si rovina subito appena andiamo a manipolarla quindi è molto meglio lasciarla così o comunque toccarla molto poco chiedo a questo punto il vostro parere fatemi sapere cosa ne pensate voi perché cosa ne penso io se vi guardate tre o quattro dei miei video non guardate soltanto quello dove dico che lo smartphone è meglio della macchina fotografica quella era una provocazione andatevene a guardare tre o quattro e vi rendete conto di come la penso io ditemi che cosa pensate voi piuttosto sono curioso di sapere com'è suddiviso il mercato com'è suddivisa la mia nicchia com'è suddiviso il mio pubblico volendo sono curioso di sapere quanti di voi preferiscono la macchina fotografica e quanti di voi preferiscono lo smartphone perché sono rimasto stupefatto da alcuni commenti di gente che magari mi segue anche che mi ha proprio detto guarda a me fotografare piace però a me di stare lì con le ghiere non me ne frega niente io vorrei una macchina fotografica però che facesse tutto da sola e che io non dovessi più nemmeno post produrla e magari addirittura con la sim per postarla direttamente sui social e io sono rimasto basito di fronte a questa cosa perché è esattamente l'opposto di quello che voglio io quindi se ci fosse una fotocamera che ti dà la possibilità di scegliere se farlo oppure no ci farebbe contenti entrambi ovviamente io non sarei contrario a una macchina che ti consente di farlo sono contrario a una macchina che ti obbliga a farlo nel momento in cui ti tolgono le ghiere e tutto quello che era professionale in cambio ti mettono una sim per postare direttamente sui social quella non è la mia macchina fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate se confronti come questo vi piacciono, vi interessano lasciatemelo sapere nei commenti è l'unico modo che avete per farmi sapere se una cosa vi interessa oppure no a parte mettere un like al video ricordatevi che se mi commentate io spesso rispondo con un video verticale per cui iscrivetevi adesso al canale così non rischiate di perdervi eventuali risposte a qualcosa che potete avermi scritto signori attendo con ansia i vostri commenti e vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao